Nella sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, il Presidente della Giunta regionale della Calabria, nonché commissario ad acta della Sanità calabrese Roberto Chiuto, ha ricevuto in un clima di cordialità improntato sulla reciproca collaborazione una delegazione dell'Avis, composta dal Presidente regionale Franco Rizzuti, il Tesoriere nazionale Domenico Nistico, dai Presidenti provinciali di Reggio Calabria Giovanna Micalizzi e De Vibo Valencia Caterina Forelli. Nel corso dell'incontro il Presidente Chiuto ha ripatito la stima nei confronti delle attività svolte dall'Avis calabrese, principale associazione di donatori di sangue dell'intera Italia e in particolare della Regione Calabria, in cui rappresenta ben l'85% di donatori calabresi, riconoscendone il ruolo insostituibile nel panorama sanitario della Regione. Il Presidente regionale dell'Avis ha fatto una breve ma efficace disamina della situazione transfusionale calabrese, portando l'attenzione del Presidente sugli aspetti maggiormente critici e come tali suscettibili di ulteriori miglioramenti, indicandone le cause e soprattutto suggerendo possibili soluzioni nel comune interesse della Regione Calabria e dell'Associazione, evidenziando come la raccolta di sangue intero nella Regione rappresenta uno dei fiori all'occhiello della sanità calabrese. Proprio partendo dall'autosufficienza in tale settore, si sono prospettate ulteriori azioni per raggiungere l'autosufficienza anche nel settore della donazione di plasma, che è stato ricordato rappresenta ancora una voce passiva nel panorama regionale a causa dell'elevato impegno finanziario necessario per acquisire i plasma derivati dalle casse farmaceutiche. Oltre alle proposte nel settore transfusionale, l'Associazione ha ribadito la propria disponibilità attraverso le strutture di base per costruire dei presidi di medicina preventiva e di salute all'interno della Regione Calabria.